Rimane avvolta nel mistero la morte di Boris Berezovsky, l'ex oligarca russo trovato cadavere nella sua residenza nel sud della Gran Bretagna. La scientifica esclude però la presenza di sostanze radioattive nell'abitazione. Nonostante l'ipotesi del suicidio rimanga la più valida, la polizia britannica ha affermato di non escludere nessuna pista. È stato sicuramente uno degli uomini più ricchi della Russia degli anni 90. Aveva perso però gran parte della sua ricchezza, viveva ancora nella sua tenuta britannica a Sir Ray, ma il resto non è chiaro. Non sappiamo molto sulla sua condizione psichica, se non per supposizioni. È un fatto che negli ultimi dieci anni la sua fortuna, tanto politica che economica, fosse svanita. Dal potere assoluto all'esilio e alle perdite finanziarie, Berezovsky avrebbe confessato qualche giorno fa a un cronista di non avere più alcuna ragione per vivere.